Dal secondo libro dei Maccabei In quei giorni, un tale Eleazzaro, uno degli scrivi più stimati, uomo già avanti negli anni e molto dignitoso nell'aspetto della persona, veniva costretto ad aprire la bocca e a ingoiare carne suina. Ma egli, preferendo una morte gloriosa a una vita ignominiosa, si incamminò volontariamente a supplizio, sputtando il boccone e comportandosi come conviene a coloro che sono pronti ad allontanarsi da quanto non è lecito gustare per attaccamento alla vita. Quelli che erano incaricati dell'illecito banchetto sacrificale, in nome della familiarità di antica data che avevano con quest'uomo, lo tirarono in disparte e lo pregarono di prendere la carne di cui era lecito cibarsi, preparata da lui stesso, e fingere di mangiare le carni sacrificate imposte dal re, perché agendo a questo modo sarebbe sfuggito alla morte e avrebbe trovato umanità in nome dell'antica amicizia che aveva con loro. Ma egli, facendo un nobile ragionamento, degno della sua età e del prestigio della vecchiaia, della raggiunta veneranda canizie e della condotta irreprensibile tenuta fin da fanciullo, ma specialmente nelle sante leggi stabilite da Dio, rispose subito dicendo che lo mandassero pure alla morte, poiché, egli diceva, non è affatto degno della nostra età fingere, con il pericolo che molti giovani, pensando che a novant'anni e alle azzaro, sia passato alle usanze straniere, a loro volta, per colpa della mia finzione, per una piccola e brevissima esistenza, si perdano per causa mia e io procuri così disonore e macchia alla mia vecchiaia. Infatti, anche se ora mi sottraessi al castigo degli uomini, non potrei sfuggire né da vivo né da morto alle mani dell'Onipotente. Perciò, abbandonando ora da forte questa vita, mi mostrerò degno della mia età e lascerò ai giovani un nobile esempio, perché sappiano affrontare la morte prontamente e nobilmente, per le sante e venerande leggi. Dette queste parole, si avviò prontamente al supplizio. Quelli che ve lo trascinavano cambiarono la benevolenza di poco prima, in avversione, ritenendo che le parole da lui pronunciate fossero una pazzia. Mentre stava per morire sotto i colpi, disse tra i gemiti, il Signore, che possiede una santa scienza, sa bene che potendo sfuggire alla morte, soffrono il corpo atroci dolori sotto i flagelli, ma nell'anima sopporto volentieri tutto questo per il timore di lui. In tal modo egli morì, lasciando la sua morte come esempio di nobiltà e ricordo di virtù, non solo ai giovani, ma anche alla grande maggioranza della nazione. Il Signore mi sostiene. Signore, quanti sono i miei avversari? Molti contro di me insorgono, molti dicono della mia vita, per lui non c'è salvezza in Dio. Il Signore mi sostiene. Ma tu sei mio scudo, Signore, sei la mia gloria e tieni alta la mia testa. A gran voce grido al Signore ed egli mi risponde dalla sua santa montagna. Il Signore mi sostiene. Io mi corico, mi addormento e mi risveglio. Il Signore mi sostiene. Non temo la folla numerosa che intorno a me si è accampata. Il Signore mi sostiene. Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo di pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo, salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse, Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano, è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore, ecco Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto. Gesù gli rispose, oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Grazie a tutti.